Ciao a tutti, quest'oggi vi mostrerò 10 cose che non tutti sanno sul lama. I lama hanno 4 colorazioni diverse, bianco, grigio, beige e marrone. Il loro colore dipende dalla zona in cui sono stati generati. I lama spavnano solamente in grandi gruppi nel bioma dell'Extreme Hills oppure nelle savane. Per far riprodurre i lama occorre una palla di fieno. Essendo un blocco composto da 9 unità di grano, questo li rende gli animali che necessitano di più oggetti per essere allevati. I lama sono animali passivi, ma se vengono colpiti ti sputeranno addosso una singola volta, provocando mezzo cuore di danno. I lupi sono spaventati dai lama. Se un lupo si avvicinerà a un lama, quest'ultimo gli sputerà addosso. Questo in base a una valuta nascosta tra i loro dati chiamata forza. Più forza il lama, più velocemente scapperà via il lupo da esso. Jab tenne su Twitter un sondaggio per far decidere agli utenti se chiamare il nuovo mob lama o alpaca. E vinse lama. I lama possono essere domati proprio come i cavalli. Ma una volta in groppa il giocatore non potrà controllare i loro movimenti. Usando una corda è possibile controllare un intero gruppo di lama fino a 10 comprendendo i piccoli. Questo succede perché i lama tendono a stare in gruppo. Una volta domato, puoi equipaggiare un lama con un tappeto. In base al colore del tappeto equipaggiato, il lama avrà un completo diverso. Sempre dopo averlo addestrato, è possibile equipaggiare un lama con una cassa. Ma la cassa avrà un raggio dai 3 ai 15 spazi. Anche questo dipende dal loro dato nascosto chiamato forza. Con questo è tutto e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!